Gentili telespettatori, buona giornata. Questi, gli ultimi otto anni, sono stati i più caldi di sempre. I ghiacciai alpini si scongelano a un livello da record. Inondazioni, oceani sempre più alti, incendi, perturbazioni molto forti. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale anticipa con dati allarmanti per il 2022 il rapporto sul Global Climate alla COP27. Non la COP sei tu, è un'altra cosa questa. E sì, in realtà, le temperature dal 1981 al 2010 sono cresciute, ma attenzione, nel grafico che sto vedendo io, le temperature in Italia, tutta Italia, isole comprese, come diceva Iazzone, sono aumentate tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Pensate un po', 2-3 gradi centigradi in più, in tutta Italia. E gran parte del Mediterraneo è quasi tutta l'Europa, tranne forse il Portogallo e un po' la Norvegia. Ci sono aree, ad esempio, in Russia, dove i gradi sono da 3 gradi in su, potrebbero essere 3, 5 o più gradi. E soprattutto anche nella parte vicina ai poli, polo nord e polo sud, ci sono parecchie aree che sono aumentate tra i 3 e i 5 gradi. E anche, per esempio, l'America, tutto il continente americano, diciamo che non si è salvato nessuno. Ci sono alcune parti, alcune parti dell'Africa che hanno avuto un abbassamento della temperatura di 0,25 gradi e alcuni oceani hanno avuto un abbassamento di da 1 a 2 gradi delle temperature. Stavo guardando questa mappa molto interessante. Quindi sempre più caldo, i ghiacciai si stanno sciogliendo a ritmi molto veloci e il livello del mare si innalza due volte più velocemente rispetto a 30 anni fa, minacciando città, costiere, isole. La fotografia che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente incredibile. Così, nell'apertura della conferenza sul clima all'ONU, con questo rapporto, il nostro pianeta sta inviando un segnale di soccorso. L'ultimo rapporto sullo stato del clima globale è una cronaca del caos climatico, commenta il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Gli ultimi otto anni sono stati i più caldi mai registrati sul pianeta, rendendo ogni ondata di caldo più intensa e pericolosa per tutte le popolazioni mondiali. Stiamo spingendo così tanto per i sistemi di allerta precoce universali entro cinque anni. Dobbiamo rispondere al segnale di soccorso del pianeta con l'azione, un'azione per il clima ambizioso e credibile. Al COP27 deve essere il luogo e ora deve essere il momento. Dal 2015 ad oggi, gli anni più caldi mai registrati nella storia, da quando l'uomo ha cominciato a prendere la temperatura della Terra. Il 2002 si posiziona al quinto posto in questa classifica, soltanto grazie all'influenza insolita, per il terzo anno consecutivo, del fenomeno oceanico della linea che tende ad abbassare le temperature. Ciò però non cambia, è una tendenza che appare irreversibile, dicono i ricercatori. È solo una questione di tempo, che tornino anni ancora più caldi. Abbiamo già raggiunto una temperatura media della superficie terrestre superiore di 1,15 gradi centigradi a quella dell'era preindustriale, ossia prima che l'uomo cominciasse ad immettere in atmosfera tonnellate di CO2 in più. Manca quindi poco prima di raggiungere gli 1,5 gradi massimi di aumento stabiliti dall'Accordo di Parigi lo scorso anno. È dimostrato che ogni decimo di grado in più moltiplica e rende più intensi gli eventi meteorologici estremi, come siccità, inondazioni o uragani. Le conseguenze più immediate si osservano con i ghiacciai. Le concentrazioni di CO2 sono così elevate, di più 1,5 gradi centigradi, risulta davvero molto difficile da raggiungere. Numerosi ghiacciai, lo scioglimento continuerà per centinaia o addirittura migliaia di anni, con gravi problemi per la Terra. Ecco, diciamo che c'è stato un innalzamento dal 2020 ad oggi, c'è stato un innalzamento di 10 mm, circa il 10% dell'aumento registrato all'inizio delle misurazioni satellitari 30 anni fa. 10 mm del livello degli oceani, un ritmo doppio rispetto al 1993, 5 mm all'anno contro i 2,1 mm negli anni 90. Io questo per esempio l'ho visto, io ricordo che andavo spesso, quando ero più giovane, con la famiglia andavamo al mare a Cefalù. Quante stati passate a Cefalù. Cefalù aveva una grande spiaggia, ed eravamo negli anni 80, 85, 86, 87, 88. Ho rivisto quella grande spiaggia che mi ricordavo poco tempo fa, e non è più la spiaggia degli anni 80, non è più la spiaggia degli anni 80, è molto molto ridotta. Questo per farvi capire che anche le altre zone della Sicilia, avevo visto proprio il mare che si era alzato, si era mangiato delle spiagge con tutte le cabine, ormai delle spiagge anche storiche non c'erano più. E sarebbe un cambiamento che è irreversibile anche su temporali e sulle precipitazioni. Il tasso di riscaldamento degli ultimi 15 anni è del 60 per 7% più veloce rispetto al 1971. Quel calore oceanico continuerà ad aumentare in futuro, un cambiamento che è irreversibile su scale temporali da centenario a millennio. Beh, molti negano queste cose qua per sempliciotteria, per ignoranza, semplicemente complottisti, gente che vede, che non vuole vedere o che non ha le capacità per capire quello che sta succedendo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qui sul canale. Grazie e buona visione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.